Direttamente da M100 ma soprattutto da Radio Globo Adesso quando sentirete il nome Tensione in console questa sera per il bellissimo del nulla Facciamo un urlo DJ Double Fab Tutti quanti in su le mano In questo momento la terra comincia a vibrare Riparati Non potrai restare fermo Adesso in console Double Fab Sulle mano Chi non alza le mano non arriva il tuo mano Vediamo se siete pronti Vediamo se siete caldi Amici delle terrazze Buonasera a tutti Buonasera a tutti Anni 90 che goduria c'era un ragazzo che voleva fare gli auguri alla sorella se n'è andato, torna qua che glieli facciamo porta 50 euro per il disturbo su oh franco, oh frecky che te sei detto? è il più di miente